siamo a siamo arrivati con la nave si può definire nave? no, traghetto il ferry adesso facciamo un giretto nella cittadina ci hanno detto che è un paesino di pirlati, eh, pirati sei davvero? diciamo che in sto paesino c'è un po' una una minchia siamo qua ad aspettare il treno di Harry Potter siamo sul viadotto adesso sta per passare, manca un pochi minuti c'è un po' di gente che aspetta sia qua sia sotto vediamo se si vede si abbiamo fatto una bella corsa si sentite lontano ma non si vede ancora arrivo 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 un po' di gente che si sentite lontano ma non si vede ancora ma che scatta nelle foto? vediamo il fuoco lascarica ok ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi poi ritorniamo a vederlo più tardi. Andiamo a vederlo più tardi. Forse da sotto, ma chi lo so. Che marina ha lasciato la batteria scarica e non è riuscito a fare foto. Mannaccia. Andiamo a vedere il museo e mangiamo. Magari. I fiorellini di Harry Potter. No, non è vero. Ci avviciniamo alla stazione. Magari ci fermiamo anche a mangiare lì. Andiamo un attimo al museo adesso. Guardiamo un attimo al museo. Grazie a tutti. Andiamo. Andiamo. Andiamo a vedere il museo. Andiamo a vedere il museo. Andiamo a vedere il museo. Andiamo a vedere. per Instagram. Qui dove arriva. Qui dove arriva il treno. Ed è il museo. Qui dove partiamo anche se. Qui dove partiamo anche se. E qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.